E' venuta questa stronzata della speranza. Intanto stanotte comincio a portare le altre due, che sennò le cose non vanno bene. Domani aspetto la terza. Marina, come è stato interpretare una cinica maîtresse? Beh, è stato meraviglioso perché non si tratta della solita cattiva, si tratta di un personaggio molto pieno di cose. E' una donna sola che vive per i suoi gioielli e per la sua ricchezza. Ricchezza per la quale opprime delle povere prostitute nigeriane alle quali strappa i neonati per venderli. E contemporaneamente poi questa sua solitudine deve essere alleggerita in qualche modo dal consumo dell'eroina, perché forse evidentemente un vuoto si sente nella vita. E ha un grande affetto per Maria, la protagonista, Pina Turco. E quando verrà tradita da Maria non la perdonerà, ma la lascerà libera. Perché comunque, anche se lei è un personaggio senza speranza, per lei vince chi è il peggiore di noi. Quindi il peggio del peggio. Ma è un personaggio molto articolato. Quindi non è la cattiva che arriva e ne hai paura. È la cattiva che c'ha dentro un vissuto, c'ha dentro molta roba. Qualcuno ha detto che meriterebbe un film a parte, un film tutto per lei. Tanto è ricca di sfumature. Quindi è stato bellissimo. Poi seguire questo poeta, De Angelis, è stato veramente un privilegio. E sono contentissima di averlo fatto. Il primo giorno di riprese, Edoardo ha riunito tutta la truppa in un cerchio e ha invitato due zampognari a suonare una delle loro melodie. È stato un momento commoventissimo. E lui ha detto, era a sua volta ispirato, ha detto, io voglio che un giorno tutti noi siamo orgogliosi di aver fatto questo film. E, insomma, potremmo dire, c'ero anch'io. Io sono molto orgogliosa di averlo fatto. In scena una poetica del disagio. La storia attuale di tantissime prostitute nigeriane. Esatto. E beh, lui è legato a questo territorio. C'è molto amore nel film, comunque. È legato a questo territorio di Castelvolturno, dal quale non riesce a staccarsi perché tutti i film li fa lì e probabilmente li farà ancora. e poi è legato a questo personaggio di Maria, la quale nella sua riscossa racconta seguire la libertà, seguire la libertà che è poi l'aspirazione di tutti gli artisti, raccontare questa ricerca della libertà. e soprattutto il tema del film è questa nascita che è al centro della storia. Per quanto riguarda le prostitute nigeriane, io non ne sapevo nulla. Ma credo che sia esattamente la condizione nella quale si trovano, quindi quella di dover vendere i propri figli. Il che è veramente triste, penoso. Ma lì ci sono tante cose. E proprio per questo Edoardo è legato a quella realtà. perché è una realtà che è un microcosmo che racconta molte brutture, forse anche qualche bellezza di tanto in tanto. grazie a tutti. Grazie a tutti